172 uffici postali chiusi e 800 esuberi sono questi per la Toscana i numeri del piano di riorganizzazione degli uffici considerati anti-economici previsto da poste italiane. Un piano che viene dopo anni di tali che hanno fortemente peggiorato gli standard di qualità e che probabilmente determinerà la fine del servizio pubblico. È la posizione dei COBAS, delle poste che nel corso di un picchetto davanti alla sede di via Gemignani a Firenze hanno annunciato lo sciopero nazionale dei lavoratori delle poste previsto per lunedì 6 agosto con una manifestazione proprio nel capoluogo toscano. Le conseguenze dei tagli previsti dal piano di poste italiane che si concentrano soprattutto nel settore del recapito saranno pesanti anche per gli utenti. Questo progetto dell'azienda porterà un ulteriore ridimensionamento e praticamente al fatto che gli utenti non potranno più ricevere quotidianamente la propria corrispondenza, cosa che già avviene in alcuni paesi di provincia ma questo ormai nel concreto succederà anche in città. Secondo i COBAS il piano di poste italiane è abbastanza chiaro e prevede lo smantellamento di poste italiane spa così come oggi e allo scorporo del banco posta che è quello che fa guadagnare. Dal recapito e dal cartaceo effettivamente è un servizio che guadagna pochissimo quindi non fa moneta ma è un servizio pubblico a cui il cittadino ha il diritto di accedere. Ma anche nei settori che rendono di più a poste italiane secondo i COBAS le cose non vanno meglio come nel caso di banco posta. Il personale è sommerso da decine di servizi e prodotti nuovi che mettono in secondo piano i servizi tradizionali come libretti, buoni postali, pensioni e pagamento dei bollettini il che accompagnato dalla chiusura di molti uffici postali comporterà code sempre più lunghe agli sportelli.